E siamo ai risultati da posto, il terzo posto se lo giudica la prima squadra della società di Nassica Virtus, Evaristo Pasqualetti. Partezione da parte di Fulvia Traverso. Siamo alla seconda posizione, sale sul secondo gradino del podium la prima squadra della società Provisione Ginastica. Trezza di mano tra gli atleti California. E' un'attesa di attraverso. Anche percorro l'omaggio l'inco. Ed è in appena di ammigliare i primi classificati. Sono i componenti della prima squadra della società Ginastica VEDA. In appena di ammigliare i primi classificati. della famiglia massimile della superazione vi ricordo che potrete avere le repliche ufficiali dei truffei questo stand è completato che è il produttore ufficiale dei truffei di questa manifestazione e adesso specializziamo questa premiazione con l'igno di Mameli un bel applauso per i nostri estretti grazie grazie